Ripartiamo con la diretta di Rai News 24 parlandovi del Festival Tulipani di Seta Nera che si chiude questa sera a Roma, questa quindicesima edizione della Kermess dedicata al cinema sociale che punta a raccontare la diversità. Una Kermess, un festival realizzato in collaborazione con la nostra azienda, la RAI e noi abbiamo ospite il presidente del festival Diego Righini, benvenuto, ben ritrovato a Rai News 24. Grazie, grazie per l'invito, un vero piacere. Dunque, la sicurezza sul lavoro è stata uno dei focus del dibattito nella giornata inaugurale, esatto? Sì, abbiamo prodotto un'opera in documentario, i cantieri di Roma dove abbiamo girato e ripreso centinaia di cantieri che stanno sviluppando nella città di Roma, penso in tutte le altre città col modo di dire c'è ripresa, ci sarà il PNRR, attenzione alla sicurezza, basta morti sul lavoro. Orlando ha preso degli impegni, il ministro molto importante, anche insieme al presidente Lina e Franco Bettoni. Col cinema cerchiamo di fare una cultura, in questo caso la cultura della prevenzione che mette la vita umana al primo posto. Il cinema sicuramente può aiutare a sensibilizzare, può fare un grandissimo lavoro a sensibilizzare su un tema importante come questo per il nostro paese. Quali sono però anche gli altri filoni, gli altri temi principali che hanno contraddistinto questa edizione? Sì, è intervenuto anche il ministro per le disabilità, Enrico Stefani, e abbiamo fatto un bilancio di un anno di attenzione forte a una disabilità che non è pietosismo ma una disabilità che significa che ognuno di noi deve, come dire, mettersi e predisporsi per trattare le persone con disabilità per i loro limiti però sapendole integrare a tutti gli effetti. Basta discriminazioni, il caso dell'altra volta dell'errore della Polfer, quando non ha sgomberato quel vacone è stato un caso emblematico. Ecco, noi raccontando col cinema tutte le disabilità facciamo cultura tra i cittadini del mondo per far capire cos'è una disabilità e quindi come sapersi comportare quando si ha un dialogo con una persona che soffre di una sindrome. E poi c'è un altro tema, un altro filone importante. Sì, abbiamo toccato il dialogo internazionale grazie alla presenza del presidente della Fondazione del Cinema Turco e abbiamo detto dialoghiamo tra etnie diverse, tra esperienze diverse, territori diversi, Europa e Asia. Lanciamo un messaggio attraverso il cinema. Il cinema vuol farci dialogare come la cultura evitando l'idea delle armi, evitando l'idea delle sanzioni ma mettendo la cultura e il cinema al primo posto. Speriamo che sia da monito per tutti. Tra le novità di quest'anno che sicuramente poi possono piacere anche a un pubblico giovane c'è la sezione dedicata alle serie digitali e cosa è emerso di particolarmente interessante quest'anno? Sì, insieme a Paolo D'Assone, il direttore artistico, abbiamo coinvolto un grazie di Michele, Gianfranco Mannone e Giannetta Nardis che è una grande direttrice e organizzatrice di digital serie. Immaginate quanto i digital arrivino ai giovani, attenzione che il digitale come i social e altro creano lo stereotipo del bello e lo stereotipo del bello crea dei problemi perché poi mettiamo in difficoltà i giovani, sia bambini che ragazzi e altri che vogliono aprire in modo diverso. Le digital serie servono a farci capire che ognuno di noi, di una sua diversità, unicità e fragilità, è importante. Quindi meno attenzione ai ritocchi, più attenzione ai contenuti. Abbiamo saputo riderci, un sorriso diverso su questo tema grazie a questa tipologia di prodotto. Questa sera insomma il festival si chiude ma c'è un importante appuntamento televisivo il 28 giugno. Sì, il 27 giugno ci sarà il gran gala del sociale. Ecco, tra tutte le cose voglio dire che insieme al Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio abbiamo deciso di premiare come miglior progetto territoriale internazionale quello di Mamma Sofia, Luca Attanasio. Riceverà il premio Zaghi Saddighi Attanasio che è la moglie. Lui, Luca, è stato un esempio, un esempio di italiano nel mondo perché mentre svolgeva la sua funzione pubblica ha saputo aprire il cuore a una comunità come quella del Congo. E dunque la sottolineiamo, la rilanciamo questa iniziativa in vista di questo appuntamento. Sì, noi li premiamo in migliori, poi sociali, in cortometraggio, documentario, clip musicali e social, sempre le clip musicali. E in più premiamo le cinque personalità internazionali che sono distinte per lavoro, per impresa, per progetto territoriale, lo sportivo, abbiamo una campionessa, una medaglia di Pechino e il giornalista, abbiamo preso i vostri due inviati. Rai che hanno seguito i profughi in uscita dall'Ucraina, che sono entrati e sono stati accolti dai paesi dell'Europa. Ecco, un messaggio chiaro e sociale. Ci puoi svelare anche i nomi allora a questo punto? Eh no, lo si saprà il 27 di giugno. Bene, allora saremo tutti collegati. Grazie Diego Righini per essere stato nostro ospite in Bocca al Lupo anche per questa chiusura. Beh, vi aspettiamo oggi al Cinema di Space Roma.